Per me piaceva il video, vorrei ricordarvi che è uscito la sorta di trailer del canale che racconta cos'è e cosa serve il canale quindi mi raccomando andatelo a vedere, nel caso ci sono anche i sottotitoli, c'è italiano e inglese, quindi mi raccomando di aspettare anche sotto quel video Praticamente si torna a parlare di remake, ma non gli direi non piaccia in chiacchiere di parlare su tutti i leak ultimi che sono usciti Allora, per iniziare, questi tipo di leak non sono minimamente affidabili perché non sono fonti certe, quindi devi passare semplicemente oltre perché sembra fake, già posso guardarlo Prossimo leak, diciamo che questo è già un po' più affidabile perché ne hanno parlato anche fonti come Kairos e c'entra proprio un leak se non sbaglio ma non ne sono sicuro Però la parte presa in esame parla di un remake fatto in stile Let's Go, ma questo è già stato smentito completamente da Kairos in persona Quindi è letteralmente inutile parlare di questo leak, quindi sì, questo video è stato fatto semplicemente per smentire entrambi questi leak Non sono smentiti al 100%, però così dovrebbe essere, quindi speriamo semplicemente che esca il prima possibile questo remake Quindi vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un like, ci vediamo al prossimo video Grazie